Nuovo scontro tra Belpietro e Don Rosario, il prete di sinistra. Ma perché noi parlavo tanto, ma in America gli avemo portato la mafia! Questo ragionamento, altamente qualunquista e molto anti-italiano, viene fatto quando, di fronte alla realtà, molti pseudo-socialisti, con tendenze comuniste, non sanno come più distorcere la realtà. Che li vedrebbe perdenti in qualsiasi confronto. Le persone che sono qua in Italia, ormai è difficile a partenza cercare gli italiani che vengano qua in Italia da noi. Scusate un attimo... Gli italiani siamo capaci di fare organizzazioni mafiose. Gli immigrati sono qualche positività in questi programmi. Mi può far parlare o... Mi scusi se la interrompo. Un attimo che devo chiudere. Siccome Don Rosario dice sempre quasi che c'è una percezione, che sono casi limitati questi, allora vi voglio dare gli ultimi dati del rapporto della criminalità. Sì, veloci che devo chiudere. 800.000 tra denunciati e arrestati nel 2022, 277.000 sono stranieri, immigrati, di cui 125.000 sono irregolari. È il dato più alto degli ultimi dieci anni. Pietro, ma i cussi... Pietro, ma i cussi... Cosa vuol dire? I cussi in Italia hanno aumentato i governi. Stiamo importando criminalità. Non lo volete capire, non lo volete capire, ma guardate che i dati del Ministero dell'Interno dimostrano che nei furti, negli scipa, nelle rapine e nello spazio c'è una prevalenza ormai quasi del 50% di stranieri. Perdona, però...